Il maresciallo è andato in banca a vedere i titoli, le azioni, le cose sue, mi ha detto non ti muovere di qua, adesso vengo, e intanto si è passato, ehi, si è passato due ore e non si vede ancora, ma che fine ha fatto? Il maresciallo a terra! Maresciallo, ma non vi sentite bene? No, no, sono benissimo, sono un amore. Ma siete andato in banca a domandare le azioni, i titoli, le salite, le città? Sì, sì, sono andato. E beh, che ci fate qua a terra? E gli impiegati mi hanno detto che devo guardare solo 24 ore.